Siamo vicini, il segnale viene da oltre questo crinale. Tenete gli occhi aperti. Se vedete movimento, scappate. Allacciate le cinture. È ora di farci strada e trovare un po' di risposte. Che cosa abbiamo qui? Zaidi, ho trovato altre note della gente di Monroi. Credo che ci stiamo avvicinando alla loro colonia. Sembra che Monroi non ritenesse i Pax così pacifici. Quando la loro tecnologia ha cominciato a sfasciarsi, ha sospettato un sabotaggio dei Pax. E mentre montava la tempesta, li hanno beccati a un obelisco, intenti in un rituale. Monroi pensava che i Pax causassero le tempeste. Io, beh, ho pensato la stessa cosa quando ho visto Augusta, le rovine, nella foresta. Monroi ha ordinato ai suoi di fermarli. Quel giorno la dottoressa Indira ha registrato i primi Pax morti. Ottimo, continua a cercare. Forse riusciamo a ricostruire la loro storia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.